eh se non mi avessi bloccata ieri probabilmente probabilmente cosa? mi staresti più simpatico certo adesso si devi farti perdonare la tana del frerito no frerito però comunque rompe abbastanza i coglioni sto cercando di mettere una posizione ciao ciao Fiorenza occhio che sta cadendo il telefono non vorrei che succeda mai eh lo so sei in una posizione un po' instabile ma la tengo dai e gli occhi azzurri ma gli occhi azzurri Fiorenza non sapevo dire che il nostro figlio potrebbe essere fortunato vabbè è una battuta giusto per iniziare ciao io ti ho sbloccata su Instagram da poco dimostrami che non devo pentirmene no assolutamente certo certo allora come stai Fiorenza stiamo proprio tagliando la testa alla salute ma ho fatto il pomeriggio in ospedale perché sono due settimane che ho l'influenza per sentirmi dire che devo prendere un antibiotico e basta sì certo che andare in ospedale per un'influenza insomma eh ma perché è prefestivo oggi non ci sono i medici e quindi mi sono fatta quattro ore in ospedale per un'influenza cioè se ti viene mal di testa chiami la clinica eh ma o quello o niente capito i medici non lavorano oggi quindi tu hai tolto del tempo magari una persona che stava mai davvero per andare con l'influenza in ospedale ma no vanno in priorità cioè mi hanno fatto aspettare perché ovviamente c'era qualcuno che stava bene certo cioè quindi magari oggi tu hai ucciso una persona indirettamente magari c'era una persona che cazzo aveva male alla gamba figa l'ha persa per colpa di quei 5 minuti di più senti Fiorenza quali sono le parti del tuo corpo che diciamo cerchi di valorizzare di più cioè quali sono le parti del corpo che ti piacciono particolarmente insomma boh il viso è quello che mi piace di più la mia parte del corpo mi piace di più e penso tipo la pancia ok facendo i terminali quindi ah ok ti piace ti piace la pancia certo comunque quando mi hai bloccata ieri volevo fare un tiktok non so se hai presente il trend quello che fa pace 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 è tipo scrivere qualcosa no diciamo che sono sano dai no divertentissimo no purtroppo me lo sono perso purtroppo che diciamo che si colora anche di una fortuna quasi immensa però sì diciamo che mi è mi è sfuggito ok va bene e quindi dicevi e quindi niente volevo scrivere tipo mi ricordo quando green boat ti blocca ma io volevo appunto fare pace 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 bello bello è divertente molto non suona bene se lo farò te lo invio se non mi blocchi sì sì in massima sì si è divertita ieri nella live bella un sacco ti giuro molto è una live molto divertente e che cosa perché ieri c'erano un po' di c'erano un po' di persone e c'era anche un ragazzo che si chiama che ha 27 anni un po' fuori dal tuo range che si chiama Jody non so se eh sì lo conosco vi siete già lasciati cioè messi insieme lasciati che quella faccia proprio da vuoi per dire oddio no 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 lo conosco cioè so chi è è ovvio e che cosa cioè insomma dovresti descriverlo in poche parole che quali utilizzeresti come fa c'è nel senso l'ho visto due volte ha scritto qualcosa no ninino però cioè insomma un bravo ragazzo ninino 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 vuol dire bello ninino vuol dire tipo bello carino vuol dire bello ninino no vuol dire gentile carino ninino ok ok e come si dice bello nella tua cioè nella tua lingua ah bello è bello cioè bello in italiano sì e e max invece come ti è sembrato max mi aveva già scritto tipo tempo fa su instagram particolare dai ok e diego vabbè diego ci sta cioè è quello che ha avuto il rapporto sì no è quello che ha avuto più cioè nel senso ho riuscito a conversare meglio che con elisa tiravo fuori argomenti mi piacciono le persone che cioè riescono a trattenere una conversazione no quindi ci sta cioè dovevi scegliere lui per elisa non gioele con tutto il rispetto no non hai non hai avuto rispetto per gioele in questo momento tutto il rispetto il rispetto non c'è chiaramente quindi non so come dire non scegliere quella merda con grande rispetto no 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 io devo mettermi parole no vabbè però insomma non è tutto lo gioco luccica no nel senso sono solo e poi chi manca beh io tu eh se non mi avessi bloccata ieri probabilmente probabilmente cosa? mi staresti più simpatico certo adesso si devi farti perdonare scusami scusami ehm sì diciamo non so se tu sia religiosa ma su cosa si basa il tuo perdono solitamente perché non capisco no non so uno scusa capito cose semplici eh nulla di nulla di nulla di certo c'è una preghiera niente di no 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 nel senso non è che volevo volevo pregare o fare niente di niente di particolare però diciamo ma non so una ragazza dice devi farti perdonare uno dice eh bla bla c'è capito ok c'è si c'è c'è vabbè e quindi vabbè un'opinione abbastanza abbastanza levigata non troppo ok ok e quindi quando è che aveva intenzione tu anche le tue amiche insomma di venire a Milano Town Milano Town per noi non c'è un evento c'è un momento preciso per venire cioè se ne vale la pena c'è c'è uno scopo c'è uno scopo c'è uno scopo vediamo ecco se sta sì sì ma sei stata già a Milano sì sì anche questo è stato un'opinione generale di Milano bellissima molto 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 bella sì 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 dovresti rivederla direi però è una frase del cazzo non è che ti invito dovresti in linea generale essendo bella rivederla è bomba però non è che dico vieni a vederla con noi o magari con me perché io sono una persona comunque che ha le sue cose anzi ho un po' di sangue addosso ma nonostante questo la cosa che volevo dire è che spacca vedere le cose belle quindi minchia vedi ok va bene quindi se mai vero a Milano ti avviso o mi faccio i cazzi miei allora fatti i cazzi tuoi ma diciamo utilizzando la tecnica della gamba seghettata la chiamo così mio nonno che aveva il bastone della zoppo e si chiamate che la gamba seghettata vuol dire che nel momento in cui ti accorgi che non riesci a camminare con le tue sole gambe è lì che arriverà il mio aiuto da lontano e lì potrai cercarmi ma senza che accada quella cosa tu vai avanti per la tua strada io per la mia perché le nostre strade è giusto che vada avanti di parallele ma nel momento in cui Stang ti stacca dal femorale puoi scrivermi ok ho capito chiarissimo catarro veramente da vendere vabbè ti presento salve come va buonasera mi hai scritto mi hai scritto di Fiorenzo una gag bella gag Simone cosa? bella gag aspetta scusami Fiorenza che ricambio non ho messo bella gag non ho capito la gag eh ricambio nome metto no ah Fiorenzo ok ok eh sì ma Fiorenzo arriva il brother mi manca stare da solo in mezzo al mare pure quando è mosso prendi una barca per starci con me voglio stare mi hai scritto ma non ho capito